Gli altri maschietti, qua loro spingono da poco di 3,70 metri. Sono pronti per la partenza, anche questi sono piccolissimi. Abbiamo avuto i grafici a Zolgi, visto il ritrito. Sono pronti, sono pronti, hanno 4 giri. Ecco, questo dovrebbe essere il primo giro. Ecco la scorta tecnica, il gruppo mi sembra ancora unito. Gruppo compatto. La nostra è spaccata in due tronconi. Ecco qui stiamo, siamo quasi lì. Ancora il gruppo, diciamo, dei fuggitivi. Dai Marco, adesso via Marco, dai, dai, dai. Marco via adesso, non aver paura. Non aver paura, non aver paura Marco. Vai! Vai! Guarda, vai! Guarda, vai! Grazie! Grazie. Visto che c'era lo sprint tra le tre concorrenti femminili, intanto sono chiamati Siorbolini, sta arrivando un altro momento. E abbiamo concluso la prima...